Tre ferenti di cui due gravi nell'incidente è accaduto nella nota nella zona del cornetto sopra Folgaria. Per cause ancora non chiari il loro fuoristrada è finito sulla rampa di lancio del parapendio da dove è precipitato in un diruppo. I particolari da Massimo Mazzalai. Con il fuoristrada si sono infilati proprio sulla passerella in legno usata dai deltaplanisti. L'automobile ha carambolato fra i mughi per almeno 250 metri disintegrandosi. I tre giovani a bordo si sono salvati, due sono gravi, uno con ferite più lievi. Il sindaco di Folgaria Maurizio Toller parla di un mezzo miracolo. Osservando quello che è il dislivello dai 1650 metri nei quali ci troviamo a dove è finito il mezzo veramente credo che proprio nel giorno della ricorrenza della Madonna delle Grasse qui ci sia stato un miracolo. Tutto era cominciato fra le due e le cinque della mattina lungo la strada forestale che da Folgaria porta alle pendici del cornetto al rifugio Paradiso. A bordo di un fuoristrada Mattia Marzari, 26enne gestore del ristorante al centro sportivo Pineta di Folgaria assieme a due suoi dipendenti Davide Peterlini, 23enne di Terragnolo e Francesco Giorgianni, 25enne di Messina. Poi cosa sia accaduto e perché è materia di indagine dei carabinieri. Sul cornetto c'era la nebbia, sulle assi dello scivolo per i parapendii che si tuffano in Val di Gola ci sono ancora i segni. Il fuoristrada si è infilato proprio lì ed è finito nella scarpata. L'allarme dopo le sette. Il capo dei pompieri di Folgaria, Andrea Ciek. La difficoltà principale è arrivare sull'autovettura dove c'erano tre persone ferite e poi il recupero fatto con l'elicottero perché inizialmente non è stato potuto far intervenire perché qui era il pieno di nebbia. Una quarantina ai soccorritori mobilitati e laborioso il recupero. Quando la nebbia si è diradata, l'elicottero col verricello è issato i tre feriti. Marzari e Giorgianni sono in gravi, in rianimazione. Peterlini è in ortopedia.